Grazie ancora, portavoce nazionale del forum del terzo settore. Sono io che ringrazio voi per l'invito, ringrazio anche Enzo per la sua continuativa e costante presenza nel coordinamento, nell'esecutivo, non manca mai di dare un apporto positivo quindi non avrei mai potuto mancare oggi e anche il contributo costante di Ivano al lavoro della comunicazione del forum e quindi sono due presenze costanti quindi è uno sforzo non solo dovuto ma che faccio con piacere per essere con voi oggi. Sono contenta che nella relazione di Vincenzo siamo partiti con il tema Unione Europea e obiettivi di sostenibilità perché queste sono le due matrici su cui anche il forum ha sposato una propria visione fin dall'avvio di questo nuovo gruppo che sta conducendo il forum da due anni e mezzo. Il tema di quanto sia urgente oggi recuperare una visione che guarda alla complessità delle relazioni sociali che quindi sono mondo, Europa, come i confini di una nazione oggi siano un perimetro non solo amministrativo ma soprattutto comunitario insufficiente a ricomprendere un mondo dove le persone si spostano, si spostano per lavoro, per le relazioni sociali perché questa è l'evoluzione della modernità e come sia necessario oggi ripensare una comunità anche allargata con nuovi strumenti, con nuove visioni ma che si riponga a quelle domande fondamentali chi è cittadino di cosa, di quali comunità, in cosa siamo uguali, in cosa siamo diversi, quali sono le uguaglianze desiderabili e quali le disuguaglianze da rimuovere rappresenta una domanda che va riposta non perché oggi abbiamo dei conflitti che ce le rendono più evidenti ma perché è molto cambiato il contesto in cui viviamo e lo sappiamo, è un tema che viene ripreso spesso. Allora è chiaro che dentro il ragionamento poi Vincenzo ha quasi riespresso tutte le assunzioni forti che il forum ha preso rispetto al tema Europa il tema del rafforzamento del pilastro sociale è importante perché il pilastro sociale in Europa c'è ma manca di alcune questioni, per esempio non mette al centro il tema dell'economia sociale e tantomeno quando pensa all'economia sociale, pensa a quell'economia sociale di cui invece l'Italia è portatrice sano, dico io, perché solo l'Italia ha questo modello di sviluppo del cosiddetto terzo settore che si caratterizza per alcune cose distintive. La prima è un'economia sociale che si balassa sulla relazionalità e non sulla filantropia, non è questo il modello delle altre economie sociali europee dove l'approccio o è filantropico o è su un modello di impresa sociale, il tempo donato, le relazioni regalate che rappresentano una delle cose più difficili da regalare in questo momento rispetto a mille euro che possiamo mettere all'interno di un progetto sociale quando uno ne ha le risorse è inestimabile perché è ciò che ha regalato all'Italia quelle relazioni calde che hanno consentito al fronte della crisi per esempio di darsi quelle manine nel momento di difficoltà che hanno consentito al paese di reagire molto meglio la crisi di altri paesi dell'Europa e del mondo. La seconda questione è la biodiversità, l'Italia ha una biodiversità di espressioni del civismo attivo proprio per questa nascita che sta dentro le comunità che è straordinaria ed unica c'è il volontariato, c'è la promozione sociale, c'è la cooperazione sociale, forme di impresa sociale, c'è le fondazioni, ci sono gli enti morali, ci sono gli enti religiosi, c'è tutto il mondo della filantropia e oggi si aggiunge a questo tutto quel movimento della cosiddetta economia civile che sono quelle imprese che vanno da quelle socialmente responsabili a quelle fortemente responsabili. Non siamo nell'impresa sociale però stia crescendo anche in Italia quel mondo dell'economia che pensa che le comunità sono un valore non un ciampo al proprio processo di sviluppo e che investire sulla propria comunità a tanti punti di vista sociale, ambientale e quant'altro rappresenta un miglior modo di crescere e anche un modo più reddifizio di crescere. E la terza questione è la matrice comunitaria. Tradizionalmente tutto il terzo settore italiano è nato dall'iniziativa dei cittadini che si sono posti di fronte a un problema che rintracciavano nella propria comunità, lo hanno fatto proprio, hanno convinto altri ad affrontarlo, ad inventarsi una soluzione, hanno inventato quella soluzione, quella soluzione che funzionava è stata messa a disposizione delle istituzioni pubbliche e grazie a questo dialogo costantemente interessante tra l'iniziativa e la testimonianza del civismo attivo volontario del cosiddetto terzo settore che non si chiamava certo terzo settore nel 200 ma che però era sempre terzo settore dal punto di vista dei principi, ha inventato, guarda caso, le politiche pubbliche, lo Stato, le forme di universalizzazione di quelle esperienze perché soltanto attraverso l'investimento pubblico e quindi l'investimento dello Stato che è possibile rendere scalabile una bella soluzione che il cittadino attivo insieme ad altri in una comunità si inventa. Questo lo ribadisco perché spesso ci si immagina che il terzo settore sia il prodotto delle pure esternalizzazioni degli antipubblici e così ogni tanto viene trattato a seconda di come la politica cerca di maneggiare questo corpo ingombrante la verità non è questa, i cittadini si danno da fare e inventano delle buone cose a volte le amministrazioni dicono bella idea e solo con quell'investimento di risorse pubbliche importante quella grande idea diventa accessibile a tutti e quindi universalistica diventa politica diventa infrastruttura, architettura dei servizi. Questo vale per tantissimi comparti del nostro welfare vale anche per il tema dello sport, diciamolo perché il tema dello sport nasce così nelle nostre comunità e poi diventa obbligatorio nelle scuole, diventa una infrastruttura di cultura che fa parte del comparto della formazione delle persone. Allora è chiaro che dentro questa visione gli obiettivi di sostenibilità sono una matrice importante perché parlano un linguaggio globale, parlano a tutto il mondo, non parlano sono l'Italia, non parlano, sono l'Europa, noi diciamo parliamo così, usiamo quei 17 simboli, quei 17 obiettivi, su quelli costruiamo obiettivi misurabili di impatto dei governi nazionali e nei governi nazionali delle regioni per cercare di andare tutti nella stessa direzione, cercare di cambiare la realtà che non ci piace il più velocemente possibile. Ed è chiaro che per noi anche tutto il ragionamento che riguarda la riforma va a guardare lì. La riforma per noi non è soltanto una grande riorganizzazione delle norme perché c'era un po' di confusione e di casino, è una grande occasione per ripensare, come ho detto ghiotta, io dico grande e anche vasta, per riaggiornare la missione degli enti di terzo settore vecchie per darne una spinta alla missione di quelli nuovi che nascono alla luce delle sfide nuove che il futuro ci ha consegnato, che il presente ci consegna per il futuro e ovviamente anche con dei nuovi strumenti. Questo lo dico perché quando nasce la riforma, nasce in un contesto molto particolare, nasce dopo una crisi che ci ha consegnato delle sfide sociali importanti, la sfida di un'economia diversa, la sfida di una nuova occupazione di nuovi lavori, la sfida di un welfare che non è più universalistico e che quindi ha bisogno di trovare nuove matrici di sostenibilità e nuove priorità sociali su cui essere impegnato e ci ha consegnato però anche altre sfide, in quello stesso momento sono successe altre due cose, il terzo settore è cresciuto in una maniera imbarazzante, nulla in Italia è cresciuto tanto quanto questo fenomeno ed è cresciuto tanto anche nelle aree dove non cresce nulla, nel sud, nelle periferie, nelle aree interne, nelle zone dove ovviamente l'economia tradizionale non arriva e non arriverà a sostituire con gli strumenti del mercato l'iniziativa verso i bisogni dei cittadini. È cresciuto così tanto insieme anche a una diffidenza, sì, una diffidenza di chi dice ma è proprio vero che questi soggetti che hanno questa identità valoriale così forte sono anche con dei comportamenti organizzativi coerenti con quella che è la loro missione fondativa e questo è il tema della reputazione che ha visto in questi stessi anni crescere questo mondo da una parte ma dall'altra vederlo bersagliato dai media, dall'opinione pubblica e dai cittadini. Io dico prima ancora che spesso qui si dice ah c'è un attacco al terzo settore, io credo che purtroppo noi abbiamo un problema di visibilità, di conoscenza, di consapevolezza da parte soprattutto dei cittadini di quello che è il ruolo che questo mondo ha nella propria comunità e questo ci deve interrogare su quali sono gli strumenti con cui noi passeggiamo nelle nostre comunità facendo cose e come raccontiamo quello che facciamo, come lo trasmettiamo nelle nostre comunità perché non può essere casuale che siamo di fronte a un grande tempo dove sarà necessaria una grande rieducazione civica e forse anche alla costruzione di nuove forme di civismo. Allora la riforma in questo senso secondo me dà tanti strumenti, il primo senz'altro è il riconoscimento del ruolo del terzo settore nelle sue diverse forme, del volontario da una parte del terzo settore nelle sue diverse forme in questo fatto che è l'innovazione sociale, certamente non nell'essere un erogatore a basso costo di servizi che altri non possono più fare, individua tantissimi strumenti, aggiunge per esempio il tema delle reti, voi siete una rete, le reti diventano importanti, riconosce che questo mondo ha cambiato passo, si è dato delle economie di scala di relazioni diverse, guardate il tema delle reti è importante per una rete come la vostra tra uguali ma è anche importante nelle reti tra diversi perché aver inserito all'interno della riforma del terzo settore il concetto di reti non implica che le reti debbano essere reti di soggetti che hanno tutti la stessa missione, la stessa identità, potrebbero essere reti di soggetti per esempio che si alleano per un intervento di altra natura, di cambiamento sociale in una comunità specifica o nella comunità paese quindi non è necessario che siano tra uguali, cioè ampia questo ragionamento, gli dà anche delle funzioni sul tema dell'identità e dell'autocontrollo che non sono assolutamente rilevanti, sono anzi molto interessanti su cui però già Vincenzo ha detto alcune cose dell'investimento del forum sul codice di qualità autocontrollo e sulla convergenza che WISP e non solo WISP stanno operando per cominciare a ragionare su un modo uguale, simile e orientato per raccontare questa coerenza tra l'identità e i valori degli enti. La riforma fa anche altre cose, cioè mette un ampliamento per esempio dei campi di attività e quindi include finalmente in modo chiaro, fotografa tutte quelle iniziative in campi di attività diversi che gli enti di terzo settore hanno nel tempo maturato e avviato. Chiunque è partito da una missione originaria noi abbiamo visto che oggi gli enti di terzo settore che aderiscono al forum operano almeno in nove campi delle attività dei 17 obiettivi di sostenibilità. Vuol dire che c'è uno sguardo ampio alla comunità, di cosa c'è bisogno oggi, non sono nato per fare quello e continuo a fare quello in maniera inerziale, mi interrogo ancora, mi faccio domande, do nuove risposte, mi prendo nuovi impegni, accetto nuove sfide. Su questo la riforma da grandi strumenti perché secondo me per esempio incomincio a introdurre in modo strutturale un sostegno alle attività degli enti attraverso i fondi, distinguendoli per le imprese sociali ci sono degli strumenti più tipici delle imprese, il prestito, nel caso delle associazioni invece c'è il fondo dell'articolo 72 che finanzia progetti delle reti a livello nazionale o dei progetti a livello territoriale e quindi comincia ad articolare anche l'accompagnamento attraverso i fondi. Ma soprattutto interviene ragionando sulla fiscalità di vantaggio. La fiscalità di vantaggio in attesa dell'autorizzazione fantomatica della UE che ancora non è stata richiesta quindi sarà difficile che arrivi se non la chiediamo, però è molto importante perché chiama in campo una sussidiarietà di tutti gli attori. Dice alle imprese se donate agli enti di terzo settore io vi avvantaggio con la fiscalità. Dice al cittadino se donate a un ente di terzo settore io vi avvantaggio con la fiscalità. Dice alle banche se voi emettete titoli di solidarietà io vi do una fiscalità di vantaggio su quel tipo di attività. Introduce quindi la sfida della sussidiarietà anche con quel pezzo della cosiddetta economia responsabile che comincia a trovare nella riforma un campo vero di ingaggio anche attraverso gli strumenti di incentivazione. Quindi quella parte è particolarmente importante non solo perché contiene se l'articolo 79 verrà così oppure no e quindi se il mio ente continuerà a avere la fiscalità di vantaggio che io mi aspettavo che avesse ma perché spingerà gli altri soggetti della comunità che terzo settore non sono a prendersi degli impegni insieme a noi all'interno delle comunità. E questo io credo che sia uno degli aspetti estremamente importanti su cui riflettere quando ripensate agli statuti, quando ripensate a come domani vorrete cambiare il mondo attraverso gli strumenti dell'impegno attivo delle vostre associazioni, dei vostri comitati, nel vostro territorio, con chi farlo, con quali strumenti per fare cosa e come ingaggiare gli altri. Il tema della finanza è un tema importante, su questo sappiamo che il terzo settore è un soggetto un po' con delle diffidenze verso questi strumenti, non è un caso che noi abbiamo cominciato a fare delle sperimentazioni su dieci progetti pilota, cantieri viceversa, dove abbiamo messo insieme dieci casi studi di soggetti di terzo settore che avevano dei progetti interessanti, che potevano avere, attendere una chance per essere sposati dai soggetti, agli intermediari cosiddetti finanziari che si possono occupare di... e gli abbiamo detto bene mettiamoli insieme, mettiamo in una stanza i progettisti sociali delle associazioni e i signori della finanza, delle assicurazioni, dei fondi pensione, dei fondi di investimento. Vediamo che cosa si inventano guardando dieci progetti e inventandosi in che modo posso con le soluzioni finanziarie accompagnare questi progetti. Bene, ce n'è anche uno nel settore dello sport, il gruppo di CSI che sta lavorando su questo. Vi invito a riflettere su questo tipo di percorsi perché è assolutamente interessante quello che viene fuori quando ci interfacciamo con strumenti che magari non abbiamo mai contemplato prima e che non sono... magari liquidiamo come questi soggetti sono solo quelli che mi fanno indebitare perché mi propongono il mutuo a tassi di interesse più o meno vantaggiosi, in realtà invece potrebbero essere in grado di aiutare la nostra missione in altri modi che non è certamente quella di aiutare l'ente ma forse i suoi beneficiari. E questo è un percorso che stiamo sperimentando, spero che potremo a novembre presentarlo e vi invito già fin d'ora a venire un po' a vedere che cosa è venuto fuori in questo percorso. Allora, da questo spinge il Servizio Civile Universale, quindi ci spinge a guardare i giovani come una fonte non solo di volontariato per qualche ora, giorno, una settimana ma soprattutto come persone da formare alla cittadinanza attiva per il Paese e questo dobbiamo risposarlo in termini motivazionali come scelte dei nostri enti perché spesso questo non è l'atteggiamento con cui affrontiamo questa cosa. Ovviamente è una riforma che accanto a tutti i sostegni ci dà anche delle regole. Le ha elencate Vincenzo prima, sicuramente sono regole che sono percepite anche minacciose soprattutto dai soggetti più piccoli che ve lo ricordo però sono quelli che non sono toccati dal sistema delle regole. Questo è un sistema di regole che è stato pensato e lo abbiamo sostenuto in questa direzione per spingere però i soggetti che manovrano delle masse importanti di risorse a essere più trasparenti perché l'altro tema che ci consegnava era quello della reputazione. Ci dobbiamo fidare di voi, per fidarsi di noi dobbiamo impegnarsi a diventare trasparenzi. Schemi di bilancio, bilancio sociale, impatto sociale, rendi contare quello che si fa, come si usano le risorse, che siano quelle del 5 per 1000, delle donazioni. Rappresenta una sfida che abbiamo detto, siamo pronti a farla e chiaramente qui abbiamo degli elementi di criticità su cui forse è utile anche per voi l'aggiornamento. Oggi la riforma è un punto particolare perché siamo con l'appuntamento degli statuti, stiamo davanti a un registro unico del terzo settore la cui reale attività sarà nell'aprile-maggio dell'anno 2020 e che quindi ci è stato chiesto di cambiare gli statuti entro il 3 di agosto. Noi avevamo chiesto una proroga che fosse ancorata all'avvio del registro, questo non era stato possibile, sembra che continui a non essere possibile. Continuiamo a chiedere che anche la nuova proroga che qualcuno dei parlamentari ha messo in campo possa essere fatta nel modo corretto, cioè contestuale non un 30 giugno, disancorato da tutto, ma ancorato all'avvio dell'efficacia del registro. Perché anche la proroga del 30 giugno potrebbe avere delle insidie, perché se il registro parte a marzo potrebbero chiederci di essere adeguati prima. Quindi la situazione rischia di essere di nuovo disancorata nella tempistica rispetto alle richieste che poi in quel periodo di vacanza prefetture, regioni, albi regionali faranno agli enti. Quindi questo resta un punto molto importante, anche se ho visto che oggi è partita dal formula circolare interna, diciamo una sorta di vademecom per il cambio degli statuti, che consente quantomeno di avere lo specchietto quadro che è frutto anche di una discussione abbastanza ampia con il direttore del ministero, con la direzione del ministero del lavoro, e che quindi dovrebbe consentire di orientare in modo sufficientemente concreto gli enti rispetto all'appuntamento del cambio dei propri statuti. Vediamo l'esito della proroga, andrà martedì, credo avremo la risposta se questo è prorogato oppure no. Sappiamo anche che su questo c'è un parere tendenzialmente contrario del ministero. Sul tema del registro ovviamente il percorso è complicato anche dalla contemporanea presenza di due soggetti. Noi abbiamo un livello di un registro unico che sarà nazionale, digitalizzato e che raccoglierà una serie sistematica di informazioni, questo è molto importante, ma nel frattempo partiamo da registri del tutto cartacei, non armonizzati, tutti diversi, delle nostre regioni e di un albo dell'IPS nazionale che dovranno convergere tutti insieme con un tema delicatissimo che è quello della migrazione dai registri al registro unico con un accordo, un'intesa che deve essere chiusa con le regioni rispetto alle modalità della migrazione e con una fase attuale dove ogni regione, sollecitata a volte anche dalle nostre associazioni, sta anche comportandosi in maniera abbastanza diversa, a volte contraria con quella di altre. Allora su questo noi abbiamo chiesto alla conferenza delle regioni di poter fare un incontro, avremo un'audizione il 3 di luglio per vedere se ci sono le condizioni di creare un atto interpretativo ordinato anche della conferenza delle regioni in maniera da cominciare ad impostare anche un lavoro che ci avvicini a un'interpretazione univoca da regione a regione perché nelle grandi reti evidentemente lo stesso statuto potrebbe essere richiesto in quella maniera da una regione e bocciato prevedendo la cancellazione dagli albi da un'altra. Questo è il percorso diciamo più delicato in questo momento, sicuramente poi ci sono altri provvedimenti che sono in corso e che sono alcuni già passati sia dal Consiglio nazionale che dalla cabina di regia, articolo 6, bilancio sociale, impatto sociale, è in corso la discussione sugli schemi di bilancio che probabilmente nel mese di luglio con il prossimo Consiglio nazionale dovrebbero essere varati e quindi un po' di quegli strumenti che consentono di orientarsi meglio sono diciamo in cantiere, alcuni in attesa di essere pubblicati, altri in una fase di discussione avanzata non è invece molto avanti il tema della raccolta fondi che invece rimane uno degli elementi critici. Su questo chiaramente il tema dell'armonizzazione normativa di cui che riguarda in particolare lo sport non solo lo sport ma sicuramente nella parte dello sport riguarda un numero di soggetti rilevanti ci ha visto richiedere un tavolo di lavoro sia all'interno del Consiglio nazionale sia a livello della Presidenza del Consiglio per poter poi lavorare a livello interministeriale una delle cose più complicate nel nostro paese oggi è proprio quello di lavorare sulle materie di regolazione quando riguardano più di un ministero perché evidentemente questo dialogo va ancora molto liato. Mi sembra ci siano le condizioni per la costruzione di una piattaforma condivisa quantomeno da tutti i soggetti dello sport che stanno nel forum e questo è molto importante perché essere pervenuti al fatto che lo sport è un modo di cambiare di ridurre le disuguaglianze all'interno delle nostre comunità perché promuove le persone, perché promuove la salute, perché consente di integrare in termini culturali e sociali le persone diverse nella comunità perché è un modo per veicolare i valori della sostenibilità e perché occupa il territorio, dico io, e quindi naturalmente genera sicurezza sembra una banalità ma noi sappiamo che la prima forma per generare sicurezza è riempire il territorio di cose buone, di cose positive che coinvolgono le persone su cose positive si riduce in automatico, è quello che si fanno nei quartieri a risco io vengo dal lavoro del disagio delle periferie quindi prima cosa è andare e riempire una piazza dove succedono cose che non ci fanno piacere, che creano difficoltà, che creano illegalità che creano rischio per i bambini e per i ragazzi quindi credo che questa è la visione che ci accomuna questo è lo sport sociale, è quello che ci aiuta a cambiare in meglio le nostre comunità e che va combinato certamente con quello che poi genera i campioni e che porta i paesi a competere tra i paesi ma sappiamo anche che questo richiede poi un'equilibrata determinazione delle misure di supporto a queste due realtà mi sembra che la piattaforma ci sia, spero che sia davvero così e se è così forse potremmo avere anche le condizioni in questo scorcio di percorso di provare a chiudere anche il lavoro sull'armonizzazione dello sport chiudo dicendo che Vincenzo ha detto che siamo corpi intermedi nella fisica quantistica i corpi si muovono mi piace di più pensare che questa cosa dei corpi intermedi sembra un mattone che nessuno vuole ogni tanto lo spostano, ogni tanto lo recuperano io vorrei eliminare questa parola siamo corpi che si muovono con altri generando che cosa? campi di forza, traiettori, energie a volte strutture forti adatte a costruire a mettere mattoni per il futuro a volte strutture flessibili invece per innovare generare cambiamento ecco, questi credo siano quei pezzi di movimenti coraggiosi che io ho visto fare in questi due anni e mezzo alle realtà di terzo settore con cui ho avuto il piacere di lavorare e con cui è piacere di lavorare e quindi vi ringrazio per questo impegno importante per questa energia che state mettendo in un momento comunque difficile perché manovrare il cambiamento non è un'operazione semplice ma appunto il coraggio fa parte delle buone condizioni per il futuro quindi grazie e buon lavoro grazie 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 a tutti grazie a tutti